Che cosa riescono a imporre parole? Parole che ciascuno ripete e intende a modo suo. Ma è così che si formano le cosiddette opinioni correnti. E vai a chi un bel giorno si sente bollato da una di quelle cosiddette parole che tutti ripetono, per esempio pazzo. Pazzo che so, imbecillo, ma dite un po'. Ma si può stare pieti il pensare che c'è qualcuno che si affanna per sfadere gli altri se voi siete come bevete lui, a fissarvi nella mente degli altri secondo il giudizio che lui ha fatto di voi. Pazzo, pazzo, non dico ora che la faccia per scherzo, ma prima, prima che battessi la testa cadente da cavallo. Mi guardate negli occhi, ah, oh, oh, che rivelazione. Sono o non sono? Eh, sì, per Dio, sono pazzo e l'ho inginocchiato tutti davanti a me. E toccate tre volte la terra con la fronte. Così. Così. Eh, per Dio, davanti ai pazzi si deve star così. Che cosa riescono a imporre parole? Parole, parole, parole. Parole che ciascuno intende e ripete al suo modo. Eh, ma si formano pure così le cosiddette opinioni correnti. Guai, guai a chi un bel giorno si trovi bollato da una di queste parole che tutti ripetono. Per esempio, eccomi qua. Pazzo. Pazzo, pazzo. È pazzo, eh. È pazzo. Non dico ora, eh. Non dico ora che lo faccia per di scherzo, ma... Prima. Prima che battessi la testa cadendo da cavallo. Ricordate negli occhi, eh. Che rivelazione. Insomma. Sono pazzo? O non sono pazzo? Ma dire, sì. C'è, sì. Sono pazzo. Sono pazzo, sono pazzo. E allora incinocchiate, incinocchiate, incinocchiate lì. Vi ordino di incinocchiarmi. Tutti. E toccate tre volte la terra con la fronte. Giù, 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 giù. Ecco. Davanti ai pazzi. Bisogna stare tutti così. Poiché. Che riescono a imporre? Che, eh. Parole, parole, parole. Parole che ciascuno intende e ripete a suo modo. Eh, già. Ma si formano pure così le cosiddette opinioni corretti. E guai a chi un bel giorno si trovi bollato da una di queste parole che tutti ripetono. Per esempio, pazzo. Eh, per esempio, che so. Imbecille. No, ditemi, ditemi, se si può stare quieti pensando che c'è uno che si affanna a persuadere gli altri che voi siete, come vi vede lui, a fissarvi nella stima degli altri, secondo il giudizio che lui si è fatto di voi. Pazzo! Pazzo! Oh, non dico ora che lo faccio per scherzo. No, prima. Prima che battessi la testa, cadendo da cavallo. Mi guardate negli occhi, eh? Oh, che rivelazione! Allora, sono? Non sono. È mia, sì! Sono. Pazzo. Allora, per Dio, inginocchiatevi. Inginocchiatevi! Vi ordino di inginocchiarvi. Tutti davanti a me. Così! E toccate tre volte la terra con la fronte. Giù! Tutti! Davanti ai pazzi si deve stare così. Ma dite, ma si può stare tranquilli pensando che c'è uno che si affanna a persuadere gli altri che voi siete come vi vede lui e a fissarvi nella stima degli altri, secondo il suo giudizio. cazzo! No, non dica adesso lo faccio per scherzo. Ma prima... prima che battessi la testa, cadendo da cavallo... mi guardate negli occhi, che rivelazione sono o non sono. Ma sì, via che sono perso. Ma allora, per Dio, inginocchiatevi! INGINOCCHIATEVI! Ti ordino di inginocchiarvi tutti davanti a me! Io questa si le porto. Giù! Ed ora con la fronte, toccate tre volte la terra. Giù! 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 Tutti davanti ai pazzi si deve stare così!